Per l'alta velocità a Roma-Pescara non ci saranno i fondi promessi, a dirlo è l'ex presidente del Parco della Maiella, Franco Iezzi. Quella dell'ammodernamento della linea ferroviaria in Abruzzo è una questione annosa su cui si giocò anche l'ultima campagna elettorale per il rinnovamento della giunta regionale. Il progetto fu poi rilanciato a giugno 2020 dall'allora premier Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità che deve riguardare anche Venezia, come sapete, Milano, Venezia. C'è tanto da fare, Roma-Pescara, impensabile, che è una breve distanza, per non parlare della Sicilia. Seguirono incontri tra l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiane Gentile, i governatori di Abruzzo e Lazio, Marsilio Zingaretti, e l'allora ministro delle infrastrutture De Micheli, che si conclusero con la sottoscrizione del progetto annunciato con toni trionfalistici. Costruiamo, iniziamo a costruire, il post-Covid non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro, del benessere. Per l'opera ci sarebbe dovuto essere un miliardo e mezzo di euro. Gentile ci disse che lui aveva una disponibilità di un miliardo e mezzo e che, con questa somma, intendeva realizzare la Pescara sul Mona e la Avezzano Roma. La copertura finanziaria sarebbe potuta giungere dal Recovery Fund, però nel testo in inglese, preparato dal ministro dell'economia Franco da presentare a Bruxelles per ottenere i fondi, per l'opera sono previsti solamente 620 milioni, ma nessuno sembra essersene accorto. A tutti, da Marsiglia, a tutti, è sfuggito che qualcuno su questa voce aveva messo solo l'importo di 620 milioni, che da quello che ho potuto sapere attraverso qualche informazione sarà utilizzato per il raddoppio della linea fino a San Giovanni di Atino o all'interporto di Manopello e il resto, circa 335 milioni, sarà destinato alla progettazione esecutiva dell'opera. E non è finita qui. C'è un ulteriore risvolto nel progetto di un'opera che sembra esistere solamente nei proclami propagandistici. Da quel testo in inglese, in cui c'era specificato che la Pescara Roma sarebbe stata rinclusa nel piano nazionale di ripresa e resilienza per un importo di 620 milioni, questo è scomparso. È scomparso. Non c'è più questa precisa indicazione. Infatti nel testo ora vi è un'unica voce generica riguardo il potenziamento delle linee ferroviarie e l'alta velocità, per cui sono previsti circa 14 miliardi, senza specificare quale somma sarà utilizzata per quale progetto. Marsilio ha inviato una lettera al ministro per chiedere chiarimenti. Forse troppo tardi. Ieri infatti la Camera dei Deputati ha approvato, con 412 voti a favore, 11 contrari e 44 astenuti, la relazione sul documento che sarà inviato a Bruxelles entro fine aprile.